Buonasera, benvenuti a Starbikers, il nostro racconto settimanale di eventi, curiosità, ma soprattutto protagonisti del mondo delle due ruote. Siamo nel nostro numero 326, una puntata molto interessante questa sera come sempre dall'altro, quindi vi consiglio di assolutamente non cambiare canale. Perché ve lo presento subito, è uno dei piloti che rappresenta la campagna nel mondo della velocità. Questa sera è con noi Vittorio Iannunzo. Ciao Vittorio. Ciao, buonasera a tutti. Sì, ricordiamolo Vittorio, dopo tanti anni in Superbike, campione mondiale con stock 1000 di qualche annetto fa, poi magari ne parliamo. E si è fatto accompagnare questa sera Vittorio da due amici, chiamiamoli così, no? Sono amici innanzitutto. Amici innanzitutto, perché secondo me l'amicizia è il valore più importante per poter coltivare un rapporto di lavoro. Ed è bello poi quando puoi addirittura ci lavori insieme agli amici, perché c'è innanzitutto Ciro Troncone, che è il tuo manager. Sì, è il mio manager al 100%. Ciao Ciro, buonasera. Ciao, grazie per l'invito. Allora, diciamo subito che tu hai avuto un problemino al braccio, perché sei anche tu un motociclista, quindi se lo vedete un po' così, Ciro sta recuperando da un brutto infortunio alla spalla destra, mi dicevi. Sì, a furi di stare con i piloti ho voluto provare cosa significa anche cadere, quindi era necessario, un percorso necessario. Ma tu lo sai che i motociclisti si dividono in due categorie, quelli che sono caduti e quelli che cadranno. Quindi adesso sei anche tu un motociclista che ha passato con lo scotch. Però ovviamente le cose più interessanti e divertenti avvengono anche con, e grazie a Enza Ruggero, o no? Ci proviamo, voglio dire, a immortalare i momenti simpatici. Ciao, buonasera, grazie dell'invito. Figurati, grazie a te. Ma tu sei il pilota che cadrà o quello che hai già caduto? No, guardi, io sono caduto una marea di volte, gomiti, omero, ho dato tantissimo, pensa che... Hai già dato, quindi... Sì, anche Vittoria ha dato. Io non so pilota, quindi stiamo a posto. No, tu, ma tu ci vai in moto almeno? Dietro magari. Ah, lo sei netto. Da passeggero. Lo sei netto. E Enza è quella un po' che cura, che ha curato quest'anno tutta la parte della comunicazione, della tua attività. Spero che lo continuerà a fare, che l'ha fatto bene questa. Assolutamente, è stata per lei la prima esperienza, però credo che abbia superato l'esame a pieno voto. È stata bravissima, ha fatto un ottimo lavoro, è stata sempre presente, mi è stata vicino in tutti gli avvenimenti, i momenti della stagione, quindi promossa. Poi la sentiremo perché vorrò sapere da lei alcune cose di questo mondo. Allora, questo mondo, questa stagione, quest'anno è stata una delle più travagliate per il nostro Vittorio, dopo tanti anni difficili, ma comunque sempre con la grinta che lo caratterizza in Superbike, c'è stata un'interruzione con il team, insomma, squadra Quasi Italia e il passaggio in Supersport. Quindi sei tornato un po' a quello che era... Alle origini. Sì, perché tu sei anche, insomma, passato per un paio d'anni la stagione in Supersport. Sì, ho fatto, penso in totale, tre anni. Tre anni in Supersport. Sì, è stata una stagione molto difficile, la più difficile della mia carriera perché c'è stato comunque uno stop del programma che era ben avviato e non mi era mai capitato questo in passato, quindi mi sono trovato a dover affrontare una situazione proprio totale, di totale... Novità. Novità, sì, perché comunque mi sono ritrovato senza moto, non più in Superbike ma in Supersport, quindi è stato veramente un passaggio molto, molto importante. Sapevo che il Mondiale Supersport forse fosse comunque combattuto, ma non credevo fino a questo punto. Mi si è presentata questa opportunità della Triumph, un'opportunità importante perché è una squadra importante, una squadra forse una delle più importanti in questo momento in Supersport perché ha alle spalle grossi investimenti, delle persone capaci e io diciamo che non posso ritenermi soddisfatto al 100% dei risultati arrivati perché comunque io pensavo e avevo puntato molto di finire magari qualche gara sul podio, invece purtroppo è stata veramente molto difficile il mio adattamento a questa moto, ci sono stati veramente diversi problemi tecnici che dall'esterno le persone non hanno potuto vedere ma che io ho subito, ho subito, però poi alla fine piano piano abbiamo fatto delle ottime gare, abbiamo sempre girato con ottimi tempi ma è mancato poi alla fine il risultato finale, il risultato declatante, anche se si pensa che poi con solo sei gare di cui solo quattro finite portate al termine sono arrivato nei primi penso diciassettesimo o diciottesimo nel Mondiale Supersport, quindi credo che sia comunque un risultato discreto. Certo non è il mio obiettivo arrivare al diciottesimo, il mio obiettivo anche nel Mondiale è quello di poter stare sempre più avanti possibile, ogni pilota secondo me messo in condizione costruendo magari una stagione in una certa maniera può fare bene e io ho un po' di anni che purtroppo questo non mi capita perché comunque si arriva sempre all'ultimo con nuove squadre, nuove situazioni ed è difficile poter esprimersi al 100%. Chiaro, chiaro. Voglio chiedere a Ciro che sono un po' di anni che ormai segue Vittorio insomma un bilancio di queste stagioni di difficoltà. Ma un bilancio sicuramente positivo. Riguardo l'ultimo anno in particolare che credo che è stato veramente un anno difficile come tu anticipavi, penso che dobbiamo essere soddisfatti perché di fronte a un team, il team Honda con cui abbiamo iniziato che comunque per motivi diciamo più disparati a un certo punto si è fermato, trovare comunque, avere la prontezza sia di prontezza diciamo atletica per quanto riguarda Vittorio ma anche la capacità di trasferire gli investimenti e gli sponsor su di un altro team con un campionato in corsa non è sicuramente una cosa facile. Ci siamo riusciti, ci abbiamo lavorato, siamo stati anche fortunati per l'amor di Dio. Devo ringraziare anche la Triumph che ci ha dato comunque la disponibilità di una moto. Gli anni precedenti sì, ma sicuramente quello che è importante è comunque l'esperienza, quantomeno per quello che mi riguarda, che inizio ad acquisire anche frequentando poi questo mondo dove non devi dare mai nulla per scontato, perché per quanto possa sembrare sai un mondo colorato, variegato, tutto così che sembra un po' un circo, ma di fatto comunque è un mondo molto duro, molto difficile. Ti nascondi anche delle insidie, notevole insidie. Eh sì, delle insidie, degli squali, insomma c'è da stare attenti perché se ne trovano ne abbiamo incontrati anche noi sul nostro percorso. Allora, parlando degli anni precedenti, tu hai corso in maniera ufficiale con Kawasaki, poi con Pedercini sempre con Kawasaki, adesso mi dicevi che dopo l'ultima gara hai provato anche la 600 Kawasaki la Supersport. Sì. Un po' di differenze con il motore tre cilindri? Ci sono delle grosse differenze, sono effettivamente due moto molto molto distanti e molto diverse. Io ho avuto, la prima sensazione è quella più scontata del motore, l'accelerazione e la coppia che ha un tre cilindri non ce l'ha la Kawasaki 600. Devo dire ad essere sincero, è stato l'unico punto a favore della Triumph, secondo me è quello. Per quello che riguarda la messa a punta poi ha provato la moto di Foree, quindi era una moto di un pilota, un campionato del mondo, un pilota che comunque in moto ci sa andare, era effettivamente una moto molto a posto, con un'elettronica molto avanti, molto avanzata, un bilanciamento della moto sicuramente giusto, migliore e effettivamente credo che nel complesso in questo momento la Kawasaki a livello Supersport è ancora sicuramente qualche gradino più avanti della Triumph. Però quest'anno anche la Triumph ha fatto delle belle gare, ma credo che sulla moto c'è un pilota che è un signor pilota, che è Chad Davis, che secondo me è veramente forte e tra qualche anno anche lui sarà uno di quelli che in Superbike farà bene. Va bene, noi cara Enza, prima che insomma ti sentite anche un po'... Ho anche la voce. No, lo sappiamo, purtroppo sai i nostri tempi sono limitati. No, scherzo. Avrei voluto chiederti quello che volevo chiederti insomma adesso, però i tempi sono corti. No, ma poi voglio dire, giusto che parli Vittorio, che è lui il protagonista. Sì, sì, ma giusto anche che insomma i ragazzi da casa cercano di capire chi sei tu, perché magari molti ti conoscono perché ti vedono in altre circostanze televisive, però insomma, che ci fai in sala? Magari appunto...